Nuova vita agli scarti e nuova vita anche agli impianti industriali. La strategia circolare di Eni punta al riutilizzo dei materiali di scarto come gli oli alimentari esausti e i rifiuti grazie alla trasformazione delle sue raffinerie tradizionali in bioraffinerie per produrre combustibili più puliti di alta qualità. Primo esempio a livello globale la bioraffineria di Venezia a cui seguirà quella di Gela. Eni da qualche anno si è impegnata nella produzione di biocarburanti adottando una strategia assolutamente innovativa. La raffineria di Venezia che era diventata obsoleta in quanto doveva essere chiusa per la diminuzione della domanda di carburanti è stata viceversa trasformata e convertita in bioraffineria utilizzando una tecnologia proprietari Eni per la produzione di biocarburanti di altissima qualità. Lo stesso esercizio lo stiamo ripetendo nella raffineria di Gela. Oltre agli oli vegetali tradizionali e ora agli oli di frittura, i grassi animali, queste raffinerie riceveranno anche cariche sempre più innovative. Abbiamo un progetto a Ragusa per la produzione di un olio da alimentare alla bioraffineria prodotto dalle alghe che assorbe la CO2. Eni sta anche sviluppando soluzioni che consentano la produzione di bioolio da rifiuti organici, impiegabile direttamente come olio combustibile a basso contenuto di zolfo da inviare a un successivo stadio di raffinazione.